Allora qui all'interno del patteggiamento Stadium la situazione è tranquilla, le ultime notizie sono che la partita si dovrebbe giocare a porta aperte, le scuole sono chiuse ma le partite ovviamente si giocano a porta aperte, chi se ne fotte cosa pensano i virologi, adesso ci colleghiamo fuori da, faremo un collegamento al di fuori dello stadio per vedere com'è lì la situazione. Eccoci qua al patteggiamento Stadium, situazione abbastanza tranquilla per il momento soprattutto per quanto riguarda portafogli, auto, borsette, insomma tutto abbastanza tranquillo. Per quanto riguarda il virus ovviamente ci sarà fino a domani alle 20.45, poi si stopperà e riprenderà verso mezzanotte, mezzanotte e mezza ma almeno per quelle due ore saremo coperti. Quindi tutto a posto e tutto nella norma. Continuiamo così e di ciò che dicono i virologi, Burioni e compagnia cantante non ce ne può fregar di meno, l'importante è che la partita sia aperta per chi deve essere aperta. Ciao e forza vecchio cuore rosso nero. I tuoi occhi nella notte sono fari che risplendono e bene e male accendono. Tutto il tuo passato non ne parli quasi mai, quello che è stato solamente tu lo sai. I tuoi occhi nella notte sono fari che risplendono e bene e male accendono. Quando affronti le tue lotte tu fai sempre tutto quel che puoi.